Ecco, ciò, grazie! Ciao! Salamu alaikum! Salamu alaikum! Per voi, per la casa, come va? Shukran! Figurati, e per te, indovina cosa c'è? Cosa? Bici! Biciclete! Ecco qua! Contenta? Così! Sì! Vai, Rana! Tutto bene? Perché gli arriva tutta quella roba? Cose donate dalla gente del posto. Sono di seconda mano, non c'è niente di nuovo. Lo so, ma gli è arrivato di tutto. Sì, ma hanno perso tutto. Dovete capire questo. Quando sono arrivati non avevano altro che i vestiti che portavano. La vorrei io, una bici. Dovresti fare qualcosa per i ragazzi del posto. Stai scherzando? Perché non fai tu qualcosa? Ricomincia a fare calcio. No? Lo sapevo. Amico mio, io vado sempre di corsa. Non mi fermo mai. Hai bambini a casa, ho il lavoro. Mia madre sta male, il mio ragazzo neanche mi vede. Vuoi che io faccia di più? Siamo quattro gatti a fare tutto. Io e un paio della parrocchia. Cristo santo, TJ, falla tu qualcosa. Che cazzo? Una volta eri tu che ci prendevi a calci per farci muovere il culo. Ora invece devo implorarti per avere un passaggio per fare due consegne. Stai scherzando? Andiamo. Stai scherzando?